Salve a tutti ragazzi e bentornati a MyShowsha, finalmente iniziamo la nuova serie su Science Squad, Kill the Justice League! Questo video è in collaborazione con Warner Bros, che mi ha dato l'opportunità di giocarlo in accesso anticipato. In descrizione vi lascio tutte le info sul gioco, che è disponibile per tutti dal 2 febbraio, ma che potete giocare in accesso anticipato anche voi già da oggi. E quelli di World True, fatevi sentire! Supportate questo video con un bel mi piace, superiamo 30.000 mi piace subito, vi metto un nuovo episodio questa sera, ma soprattutto condividete il video amici, fateli sapere che abbiamo iniziato Batman, Superman, Flash, tutta Metropolis e sono sotto il controllo di Brainiac. Gli unici che possono salvare la situazione siamo noi, la Suicide Squad, riusciremo in questa impresa. Lo giocheremo su PS5 così ce lo godiamo al meglio, ma soprattutto andiamo a sfruttare delle feature del gioco che ha con la PS5, tipo l'audio 3D, che ci permette di percepire la direzione degli spari, è uno shooter quindi è importantissimo, i grilletti adattivi del DualSense, ogni arma ci darà una sensazione differente e infine il feedback haptico, che è un'esperienza che dovete provare perché ci permette di percepire quello che succede in game, tipo un'esplosione, la sentiremo dal pad da provare. Iscrivetevi al canale, iniziamo, vai! Ah, Metropolis, sono le piccole cose che cambiano l'atmosfera di una città, il clima, la gentrificazione, le invasioni alieni. Task Force 6, basta divertirsi, vedete di far fuori tutti i bersagli a disposizione, capito? Odio ammetterlo, ma vuole la ragione, abbiamo un lavoro da fare. Come avete fatto a dividervi questa volta? Ehi, non è colpa mia se ci siamo persi, eh, stavolta. Riuniamoci al Daily Planet, si trova in pieno centro. Hai ancora la guida turistica, squaletto, lo adoro. Concentrazione, è la gara 7, non possiamo sbagliare. Gara 7, che significa? Sembra qualcosa di importante o stressante. Già, non l'ho capita nemmeno io, Floyd. Ah, non dirmi che non conosci il basket, Carl. Tessino io so cos'è. Non fatevi ammazzare per qualche stupidata. Conosci Boomer, lui è sempre stupido. Ehi! Aspetta, stupida sarai tu! Che ti avevo detto? Sarà un po' difficile entrare tra le battute di questi pazzi, però siamo pronti, siamo Deadshot e stiamo iniziando una sorta di tutorial che ci introdurrà ai vari personaggi, perché come detto, noi possiamo utilizzare uno dei quattro della success squad. Il mio main, almeno per queste prime puntate, penso che sarà Pink Shark, ragazzi. È un'altra roba, cioè. È qualcosa di clamoroso. Eccolo il jetpack. Allora, bisogna un attimo prenderci la mano, eh. Quindi è buono che abbiano inserito questo tutorial, però ve lo mostrerò in maniera un po' veloce. Un po' perché è mattina e sto così, e i miei vicini hanno deciso di iniziare a fare dei lavori. Quindi se sentirete dei rumori strani, ragazzi, è quello. E un po' perché, vedete ragazzi, ci sono un po' di cose da imparare, eh. Quindi io ve le mostro, ma è molto probabile che le vedrete meglio giocando. Devo fare quello che mi riesce meglio e colpire l'obiettivo. Sì. Non mi fermerà un piccolo scudo. Lo aggirerò col mio jetpack. Ma sicuramente, signor Deadshot. Lui, ragazzi, è uno dei cecchini più forti, se non il più forte, dell'universo della DC. Sicuramente farò momenti didattici e approfondimenti su stati e personaggi. Abbiamo messo il cecchino. Questa è l'arma di Deadshot. Boom! Mamma mia, che bello. Voglio dire, ragazzi, che quei numeri lì ti danno una certa soddisfazione, eh. Non posso farcelo. Niente panico. Le collo, po' sbruciatore, respiri lenti e via. E dai, eh. Davvero? Una passeggiata. Allora, andiamo di jetpack. Poi a mezz'aria. Impulso di volo. Ok. E continuiamo. Diciamo, questo è il metodo migliore per spostarci. Lui, diciamo, è il personaggio più serio, eh. Ha tutta una storia particolare che io vi racconterò ora. I momenti didattici non mancheranno, quindi state tranquilli. Forse dalla prossima puntata, così almeno sto più sveglio. Non dovevamo incontrarci. Squalo. Ehi, sei da queste parti? Ok. Passiamo con King Shark. Ragazzi, lui è il mio main. Perché è troppo, troppo divertente. Però, noterete... Lui è un personaggio veramente particolare. È un semidio, quindi... Rispetto agli altri, ha... Dei superpoteri reali. Stai ancora facendo ricerche. Non puoi guardare dopo le foto. L'esperienza non sarebbe la stessa, Floyd Lode. Non ti chiederei mai di limitarti a vedere le foto di Atlantide. Deve essere vissuta a piano. Preferirei le foto, a dire il vero. Abbiamo una nuova fobia. Ma quella non è una fobia. Vedete, lui si muove in maniera differente. Allora, noi corriamo e poi... Lancio verticale. Oh, mamma mia. Che goduria. Sì, più o meno. E poi... Discesa. Ah, vabbè. Ma infatti io pensavo ci fossero dei nemici. che insegna i giochi di parole allo squalo. Saluti, Deadshot. Dove sono Harley e Boomerang? Non con te, a quanto pare. Boomer, rapporto. Nooo. Nooo. Sì, ecco. Io! Ho dovuto affrontare metà dell'esercito di Brainiac. Esatto, tutto da solo. No, che annusa. Sì, io! Eccolo, Capitan Boomerang. Lui è un personaggio particolare. Il nemico giurato di Flash. Sì, intrattienici con le tue gesta gloriose. Oh, noterete che il metodo di spostamento del nostro Boomerang è particolare. Lancia un Boomerang e... Oh, oh, questa è la stata di Wonder Woman. Giusto? Andiamola a vedere. Vedete? Sfrutta una cosa molto simile a quella di Flash. Ecco, diciamo... Sì, sì, sì. Vedete? Questa è una statua di Wonder Woman. Trenta, sei sicura? Allora, ragazzi, vediamo un po'. Colpi di Boomerang, vedete? Lancia il suo Boomerang. Vabbè, grazie. E è sicuramente il personaggio più sboccato e... Particolare, è particolare, ragazzi. E però è anche quello più tecnico. Cioè, quando l'ho provato, ho riscontrato che... Insomma, bisogna un attimo capirlo, eh. Che in questo momento hai poteri di Flash. Perché? Adesso lo scopriamo. Ah, Boomerang. Sembra illeso, nonostante le tue presunte temibili battaglie. Hai visto Harley? Eh, no, c'erano troppi corpi per vederla. Ehi, Harley, ma che fine hai fatto? Ti avranno preso a cacci, vero? Poi, da ciò dice, non hai proprio spirito di autoconservazione, Queen. Dovevi proprio esserci. Almeno... In vita. Comunque, sarò a Gotham fra un attimo. Fai di nuovo la burattinaia coi cadaveri? È inquietante. Sì, solo un pochino. È il mio balsamo per l'anima in questi tempi difficili. Potrebbe andare peggio. Potrei essere come Boomer. Ehi, cosa vorrei tenere? Gira questa voce che tu non ti lavi e non pulisci le tue armi. Ehi, io vado dove va il mio Boomerang, ok? Anche sotto la doccia. E al bagno, ovunque. Non stai migliorando la situazione, sai? Sono morto. E mi trovo all'inferno, non c'è altra spiegazione. Porello Boomer. Perché deve essere così assoggettato? Comunque, siamo Harley Quinn. Siamo quella Harley Quinn. Quella dei Batman Arkham. Perché vi ricordo che questo gioco prende parte cinque anni dopo Arkham Knight. Quindi è quella lì. È quella lì. Si muove, vedete, col rampino. Adesso scopriremo le origini di questo movimento. Noterete una certa familiarità, no? Con questo rampino. Perché è quel rampino, signori miei. Ora. Ciao, ragazzi. Allora come procede l'apocalisse? Bene, ora che sei finalmente qui, possiamo mettere... Ah, quasi dimenticavo. C'è un bel gruppo di cattivoni pronti a piombare su di noi. Come se fossero un buffet. Dunque, chi resta a giocare a fare l'eroe? Oh, possiamo scegliere il nostro primo membro, il main della Suicide Squad. Allora, inizierei per questa prima puntata, visto che sto un po' così, con King Shark, che mi sembra il mio main. L'intenzione è quella di ruotare i vari personaggi e scegliere, in base a quella che sarà la missione, quella che sarà la storia, il personaggio più giusto. Eh, Waller, la nave testa è già salutati. Passo. Tutti verso l'obiettivo. Lo scudo di Promezio è attivo, ma non durerà per sempre. Ah, mi ricorda proprio la domenica mattina a casa mia. Sì, che nostalgia del campo di battaglia. Ah, le guerre degli squali martelli. No, no, concentratevi. Però le guerre tra squali sembrano fichissime. Oh sì, lo sono. Task Force X, vi voglio tutti in zona di attacco. Andiamo, ragazzi, andiamo. Muoviamoci per la prima volta. Come detto, poi approfondiremo sicuramente storie, personaggi, la guerra tra squali, piuttosto che Lois Lane e il Daily Planet. Però adesso, vedete, abbiamo un problema qui e dobbiamo risolverlo quanto prima. Ok, vai. Ragazzi, facciamo minare un po' le mani. Ecco, adesso diciamo che il gioco darebbe il meglio di sé se giocassimo con degli amici. Che ci possiamo coordinare. Io mi aspetto un bel po' dalla storia, cioè... Guarda lì, addirittura con gli elicotteri. E beh, giustamente, ragazzi, perché adesso, diciamo, tutta la città è sotto il controllo di Brainiac. Ah. Bel pad che vibra tutto. Andiamo al punto, ragazzi, che qua è impossibile. Sì, e noi come facciamo a fare fuori questo? Tu sei la prossima? Sì, 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 ragazzi, io me do allegramente proprio. Ma allegramente. Amici miei. Ragazzi, proprio senza pietà. No, no, aspetta, ci stanno tracciando. Forse non era il caso di provocarlo, che dite? Sette giorni prima. Quello che abbiamo vissuto era semplicemente un assaggio, un tutorial. Che ci mostrava una certa situazione, ma come ci siamo arrivati? Ecco, guardate un po' e se avete giocato gli altri Arkham, magari vi risveglierà anche qualcosina. Vedete? Arkham Asylum. Per quello io dico, ragazzi, io ho tante, tante aspettative sulla storia. Perché si ricollega al passato, ma soprattutto è molto rispettosa a livello di lore, per quanto riguarda i fumetti. Quello l'ho sempre stato. E' Amanda Waller. Sono la direttrice dell'Argos. Una divisione della sicurezza nazionale che non potete conoscere. Noi però vi conosciamo. E sono qui per farvi un'offerta. Voi non siete altro che cani rabbiosi. Desperati. Affamati. Però sapete come sopravvivere. Questo potrebbe fare di voi i regnanti di Arkham. Ma fuori di qui... Il mondo si è dimenticato di voi. E passerete il resto dei vostri giorni a togliere i vermi dal polpettone della mensa. Ma tutto può cambiare. Io posso farvi uscire. Darvi una possibilità di fare del bene. E se voi... Salve Harley Quinn, gazzetta di Arkham. Una domanda al volo. Che cazzo è questo squalo? Io sarei ben lieto di presentarmi. Non sarà necessario, King Shark. Questo è un iniettore di microbombe degli amici dell'Alex Corp. Una puntura nel collo e tanti saluti. Siete sicuri di voler morire in questo posto? No? Ma allora aiutatemi. Mi basta solo uno di voi. Gli altri tre... Sono già morti ormai. Quindi... Provate a stupirmi. Dunque... Va bene. Scusatemi. Dunque. Waller vuole dalla sua l'assassino più letale del mondo. È d'accordo. Ma voi a che cosa servireste? Conoscendo personalmente Amanda Waller. Suppongo niente di buono. In che senso conoscendo personalmente? E che ci fa un pesce ad Arkham? Hai problemi nella testolina, squalo? Ansia generica. Ma sono venuti a prendermi a casa. Nel mare? Penitenziario Belren. Potete concentrarvi per un cazzo di secondo. È una trappola. Siamo tutti spacciati, a prescindere da chi lo tocchi. Ah, il dilemma del prigioniero. Ma quale dilemma? Il prigioniero vuole uscire. Ma capitano, sei appena arrivato. Io sono qui dentro da cinque anni. A me sembra di parlare con voi da cinque anni. Non possiamo... Ah, scusa, Deadshot. Stiamo per caso interrompendo la tua relazione con il lettino? Ma Deadshot non doveva essere bianco. E tu non dovevi essere muto? Cazzo di canguro. Perché sei australiano. Ok, quindi cominciamo ad ammazzarci tra di noi o cosa? Perché sarò sincera, ucciderei chiunque per uscire. Ucciderei voi, ucciderei me... Nessuno ucciderà nessuno. Se nessuno prende la bomba, Waller tornerà qui. Capirà che non siamo dei fottutissimi pazzoidi. E ci lascerà andare. Quindi non faremo nulla. Bene, sono molto bravo a non fare... Godetevi il nulla, idioti. Forse avreste dovuto passare meno tempo a scuola e più tempo a imparare come scassinare. Perché sembra proprio che Capitan Boomer... Ragazzi, direi che non parte con buone premesse il rapporto tra questi quattro. Sono dei pazzi furiosi. Vi dicevo, bello che hanno messo una tuta differente a King Shark. Perché lui effettivamente non era Darkham. Era in un'altra prigione dove vengono detenuti i meta-umani. Perché come vi ho già detto, lui è un semi-dio. È un qualcosa di differente. Approfondiremo sicuramente. Però vedete? Loro stanno lottando per la loro vita. C'è solamente un posto e gli altri verranno fatti fuori. Poi scopriremo che non sarà così. Però bello che hanno introdotto addirittura la Lexor. L'azienda di Lex Luthor. Ecco, Deathshot. King Shark. Loro si stanno... Vedete? Si stanno mettendo da soli le bombe. Harley Quinn. En lui è. Siamo stati fregati. Vi siete fregati da soli. Benvenuti nella Task 4-6. Eh, ma infatti si sono fregati da soli. Spazi stretti. Respira. Ok. Serve un piano per gestire questi figli di... Sei sveglio, vero? In realtà sono figlio di un dio. Abbassarmi a livello dei mortali è già un'onta. Lo è anche per me. Non pensavo di portarmi dietro la zavorra di Arkham. Eh! Eh! Do qualcosa nell'orecchio! Qualcuno di voi bastardi mi ha infilato una roba nell'orecchio! È un comunicatore. Così sentiremo le tue cazzate ovunque. Eh, mi state facendo rimpiangere l'isolamento! Beh, bello non essere più ad Arkham. Grazie, strozzi. Beh, avremmo potuto fare una rivolta come la gente normale! Ma no! Devono essere tutti degli infami! Era un test. Un trucco. E non so ancora se abbiamo fallito. Beh, quattro teste esplose sono meglio di una. Dove si va? E chi dobbiamo uccidere? Ci hanno armato come un esercito. Ehi! Ma c'è il cazzone alla guida di questo treno adesso? Certo che no. Non ho mai viaggiato in treno prima di oggi. Oh, benò! Ma che sfiga! Questo treno è come l'australiano. È vecchio e in marcio. Mi spiace, pasticcino. Non sono così vecchio. Squalo, tira quel freno. Bene. Ah, ragazzi! Sapevo che lavorare con voi sarebbe stato il nostro perro perio, ma così è troppo! Ah, ragazzi! Stupido treno di me! Stupide bombe! Stupido accordo! Ehi, aspetta, bello. Cosa c'è? Non lo senti? Sento cosa. Mi prendi in giro? Vecchia scuola. Mistop Secret vorrà parlarci. Oh, ci ha fatto una playlist. Congratulazioni, Task Force X. Se state ascoltando, almeno uno di voi ha raggiunto vivo la zona operativa. Per merito dello squalo! Zitto, canguro! Le comunicazioni non funzionano sottoterra. Quindi fatevi bastare questo nastro. Ecco gli obiettivi. Perfetto. Ognuno di voi è equipaggiato con del C4. Fate esplodere il muro degli arrivi della vecchia stazione. Superatelo. Arrivate al tetto dell'edificio e stabilite una comunicazione. Fini i minimi dettagli. Task Force X. Avete gli ordini. Ignorateli, separatevi o fatemi incazzare in qualche modo. E vi faccio saltare quelle belle bombe che vi siete amorevolmente piantati nel cranio. Sopravvivete e ci aggiorniamo. Passo e chiudo. Stiamo vivendo i sette giorni prima degli eventi che abbiamo visto precedentemente. Però in questo momento abbiamo una bomba nel cranio, nella testa. Quindi se non ubbidiamo, salteremo. Quindi è una cosa che dobbiamo fare per forza. E soprattutto siamo una banda di pazzi. Però credo che loro in questo momento non sappiano quello che sta succedendo. Perché giustamente eravamo reclusi ad Arkham. Ma qui siamo a Metropolis. Che sia di un uomo pipistrello. Che sia un uomo pipistrello. Andiamo, questa è tutta un'altra lega. Riempiamo di proiettili. Molti proiettili quella cassetta e proseguiamo. Vai. Allora ragazzi, è chiaro che... Ah, quella cassetta è lì. Allora, poi approfondiremo anche tutta la formazione della Suicide Squad. Che nei fumetti è stata ricchissima di altri personaggi. Arley Quinn, non dovresti essere più calda. Ma quando mai? Oh, Deadshot. Finché non si capisce dove siamo. Ascoltiamo... Oh sì! Oh sì, ragazzi. Siamo nella sala della giustizia. Guardate. Qui c'è Lanterna Verde, Wonder Woman, Superman, Batman e Flash. Quelli che dovremmo sconfiggere, che dovremmo affrontare in questo gioco. Eppure sono più grandi di quel che mi aspettavo. Quegli ologrammi non sono a grandezza naturale, squalo. Certo, lo so. Buongiorno a tutti. La sala della giustizia. Oggi l'abbiamo aperta solo per voi. Ci sono molte cose belle da vedere e da fare. Wonder Woman sorveglia il santuario. Lanterna Verde è nel quartier mastro. O forse volete vedere Batman alle prese con la Batcamsula. Al display eroi e criminali, Flash vi mostrerà alcuni strumenti di lotta al crimine usati negli anni. Insieme a diversi oggetti strambi che abbiamo preso ai cattivi. Date un'occhiata. Premete pulsanti in giro. E che questo Justice Day... Che sia una giornata super! Che figo, ragazzi! Cioè, Superman proprio... Boomerang, ma che... Ma che fai? Vabbè, ma non è che la devi rompere. Una sala... Una sala delle cazzate! Ma perché? Ma perché? Qua c'è tanto da scoprire. Vorrei ascoltare tutto. Però vi ricordo che questo è un video sponsorizzato da Warner Bros Games. Quindi cerchiamo di approfondire anche un po' di gameplay. So cosa pensate. La S sul mio petto può significare una cosa sola, giusto? Beh, non proprio. Pensate che prima di arrivare qui, questa non era affatto una S. Vi ho detto che vengo da un altro pianeta, ricordate? Nel mio mondo, questo è uno stemma familiare. Grandioso, no? Adesso ho una nuova famiglia. E wow, anche un nuovo pianeta. Pare qui, eh? Oh, hey! Non vi avevo visto. Sì, so che sono stato definito l'uomo più veloce del mondo, certo. È vero. Anche se Superman potrebbe avere da ridire. Mi direbbe che non ho superato in velocità il fulmine che ha colpito il mio laboratorio. Ma era prima che potessi attingere energia da una fonte interdimensionale chiamata... Forza della velocità! È praticamente la batteria inesauribile più potente dell'universo. E anche il mio segreto. Già, proprio così. Grazie a lei posso fare molto più che correre. Posso creare un ciclone. Posso far vibrare le molecole del mio corpo così velocemente da scomparire. Ed è anche ottima per uscire dai guai. E poi, sapete, essere seguito dai fulmini quando corro è davvero fico. Ma la Justice League non riguarda soltanto me o un gruppo di persone con capacità straordinarie. Riguarda anche voi. Potete essere dei supereroi facendo la cosa giusta ogni giorno. Siete voi a ispirare la nostra grandezza. Quindi grazie. Ah, di niente. Però credo che sia bello e importante ascoltare queste parole, ragazzi. Di che parli? È come se il 4 luglio avesse vomitato su un museo. Da bambina sono cresciuta credendo che sarei vissuta per sempre là con le mie sorelle e amazzoni. Ma un giorno ho scoperto un grande, grande segreto. Ebbè, se ce lo racconti. Ho scoperto di essere la figlia di Zeus, il re degli dèi. Dalla famiglia di mio padre ho ereditato la forza per maneggiare i miei potentissimi bracciali. La mia spada è, cosa più importante, il mio lazzo magico. Che obbliga chiunque a dover dire sempre la vita. No, è il pinguino. Come potevo rimanere su Temischira con tutti questi doni? Quando ho scoperto che nel vostro mondo i forti facevano del male ai deboli, ho capito che avevo il dovere di aiutarvi. Nonostante le preoccupazioni di mia madre, ho deciso di vivere tra gli umani. Di essere una guerriera per la pace. Di proteggere. Mi manca casa. Ma ho nuovi amici, come la Justice League. Non c'è nulla che non faremmo l'uno per l'altro. E insieme a loro, niente può fermare la nostra lotta per creare un mondo migliore. Eh, però state sentendo? Cioè, tutti si considerano una famiglia. È un legame. Non ti è piaciuto essere sbattuto ad Arkham, vero? Un professionista come te? Cazzo, sì. E poi non avevi mica una bambina? Deve essere dura non vederla. Finisci quel pensiero, Boomerang. Avanti. Sarà l'ultimo. Sono nato Bruce Wayne, cittadino di Gotham. Ho perso i miei da piccolo per mano del più grande nemico della città. Il crimine. Da quel giorno ho giurato di dedicare la mia vita a difendere coloro che amano il cuore e lo spirito di Gotham. Diventai un simbolo. Avrei potuto spaventare i malvagi. Sono diventato la vendetta. Sono diventato la notte. Sono diventato Batman. Ovviamente mi serviva qualcosa di più del mio ingegno. Dovevo lavorare duro. Allenarmi spesso per combattere il crimine. Dovevo costruire degli strumenti, attrezzature. E i veicoli più avanzati che abbiate mai visto. Avevo degli alleati, ma ho dovuto allontanarli per tenerli al sicuro. Ora, come membro della Justice League, sono grato ai miei compagni. Perché insieme siamo più forti che da soli. A me non mi suona con questa voce differente. Vabbè, vediamo un po' però che cosa hanno preso. L'attestazione di ricchezze della Justice League. Oh, aspettate, aspettate ragazzi, guardate qui. L'iniettore di paura dello spaventapasseri. Il cappello dell'enigmista? Questo è quello che vi volevo dire prima. C'è tantissima lore. Cioè, solo questa stanza è piena di riferimenti ai vari personaggi della Justice League. Piuttosto che dei fumetti della DC in generale. C'è tanto da approfondire. Ehi, occhio al... Cazzo! Vetro. Sta bene. Che cazzo c'hai lì? Pensavo fosse una leggenda. Il guanto con la forza della velocità. Ai tempi Doc Sivana voleva fottersi Flash. Mi manco. Che prende in sciarca? Che ha già tantissimi poteri. Che stiamo rubando la tecnologia ai nemici della Justice League o... La sensibilità dell'enigmista! Ah, sì? Dov'è finito, squalo? Bambini. Uuuuh, niente urlo assassino internazionale come un fottuto jetpack. Cazzo. Finirebbe molto male. Forse hai ragione. Il jetpack è più una roba da dead stroke in ogni caso. Oh! Ecco, vedete, queste battute. Magari, se non conoscete quel mondo... Passano un po' così, però... Ecco qua. Adesso avete capito... Come mai avevano quelle tecnologie e perché abbiamo dovuto fare quel tutorial. Quello cappello non ti farà volare, squalo. Ma posso volare da solo? Wow, super accipicchia! Da quando gli squali volano? Ok. Nuovi giocattoli, armi cariche... Andiamo sul tetto a riprenderci la libertà. Ok, ragazzi, adesso abbiamo dei poteri, però... Proviamo questa roba. Non ho mai amato i giocattoli, ma... C'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta, però, ragazzi, a proposito di prime volte, vi faccio vedere anche un po' come funziona il gioco. E soprattutto la questione aspetto, equipaggiamento e via dicendo, perché... Adesso io ho un po' di cose in più sbloccate dalla Deluxe Edition, un po' di pacchetti, però, vedete... Noi abbiamo le armi, possiamo mettergli delle mod, quindi creare delle vere e proprie build. Ora, io, per esempio, questa qui, criminale noto. Ci sono diversi tipi di arma, eh? Nel tutorial avevamo la mannaia, mentre così iniziamo con delle lame più comuni. Vedete, possiamo anche mettere questo costume qui che possiamo personalizzare. Oh, oh. Ci siamo, ragazzi. Ok, forse era meglio rimanere dentro. La nave di Brainiac. Uno dei cattivi più cattivi. Tei fumetti. Sì. Ah, bene, bene. Direi che è un viaggio di sola andata. Waller! 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 Ah, giusto. Ehi, Waller! Ma dove cazzo ci hai fatto finire? Questa è una merdosa zona di guerra! E c'è anche un teschio gigante del cielo che... Trovamenti, Task Force X. Siete i primi a essere tuntivi a Metropolis. Inviamo un transponder alla vostra posizione. Il vostro ordine è attivare questo transponder. Passo e chiudo. Datemi una sola ragione per cui dovremmo fare sta cazzata. Le bombe, idiota. Per la curiosità. Waller non ci sta dando una scelta. Sono pronto a buttarmi giù dal tetto adesso. Beh, ragazzi miei, siamo gli unici arrivati vivi a Metropolis. Chiedetevi perché. Andiamo, ragazzi, andiamo. Inizia davvero la nostra avventura adesso, si può dire. E poi esplorerò la mappa, capirò. E cercherò di capire anche qual è il mio personaggio main. Cittadini di Metropolis, non assembratevi vicino al velivolo non identificato. Per la vostra sicurezza, rimanete lontani dai detti. Vedete, guarda. Ragazzi, questo era tutto pronto per il Justice Day. Cioè, tutti stavano per festeggiare la Justice League. Deve essere successo qualcosa. Ok, facile, facile, dai. Non morirò per un brufolo d'acciaio su gambe. Forza, gente! Ma in che senso? Spariamo a quei cosi. Facciamo un po' di mena-mena? Perché hanno questo odore? Armi pronte. Bello! Ehi, Metropolis non ci siamo mai venuti, in realtà. Allora, ragazzi, vedete questa esplosione? Vengono date dalle armi che abbiamo messo. Questa qui di maschera nera. D'altro è un personaggio della DC. Vabbè, poi approfondiremo, ragazzi. Capiamo e capiremo anche chi sono... Insomma, ecco, Boomerang piuttosto che... Vabbè, Harley Quinn, come detto, la conosciamo già, però... Chi sono questi altri personaggi in questo universo, no? È il videogioco. Oh no! Oh no! Ragazzi! Non di nuovo. Dobbiamo andare. Maledetto passato verde. Eh sì, eh sì. È proprio lui. È proprio lui. Questa è la lanterna verde. Oh cavolo, ragazzi, eccolo! Giunge in aiuto. Oh, cazzo. Stupide! Caccole viola! Ora sono bei cazzi! Lanterna verde vi! Lanterna verde! Grande! Ehi! Lanterna verde! È sempre stata così... Stavo per chiederti la stessa cosa, Quinn. Aspetta. Floyd Lawton! La sicurezza di Arkham deve fare schifo. Ah, sai cosa? Sono in ricognizione per Brainiac. Facciamo due passi. No, ragazzi, vedete? È sotto l'influenza di Brainiac. Guarda un po'. I ribelli non possono farci niente. Brainiac dice... Ehi! Continua a parlare di Brainiac come se sapesse di cosa farli, ma mi sa tanto di no. Solo Brainiac può portare ordine nel mondo. Renderlo una casa per la gente. Presto. Qui sorgerà il pianeta Colum. Questa è la mia missione da quanto? Tre settimane? Questo è radunare i meta-umani. Ma non mi sembra voi abbiate il potenziale. Comunque, qualcosa di voi faremo. Quindi stanno reclutando meta-umani per raggiungerli all'esercito e vogliono creare un nuovo pianeta. Signor Lanterna, signore. Io non sono un meta. Non è che per caso potrei... Ssh! Guardate attentamente. Attento, Floyd. Puoi andare. Per caso! Toglietelo, toglietelo! Fa male. È doloroso. Ma dopo essere stati migliorati, non si torna indietro. Cavolaci! Staudinano! Tu! Stai cercando degli sbandati? Per l'esercito di Brainiac. Bravo, squalo! Sono già partiti 8 milioni! 8 milioni! Questi ribelli non sanno cos'è la legge marziale. Sì, ma cavoli, ragazzi, ci pensate? Questo ha Lanterna Verde e basterebbe lui. Invece ce l'ha tutti. Unitevi a Brainiac! Siete pronti? Lanterna! Metto due pallottole in testa a Brainiac. Poi vengo a cercarti. Ah, sì? Magari gli dirò che ho trovato solo tre meta. E un altro corpo ridotto a Bra... Oh, oh, Flash! Brainiac si chiedeva come fosse sceso. È un segreto. Noi non abbandoniamo nessuno. Vediamo di sistemare. Lo sai. Volevo proprio dire la stessa cosa. Ah, ma allora in questo momento Flash è... Non è sotto il controllo. Waller, assistenza! Lanterna Verde! Ci hai messo un bersaglio in fronte, Waller! Lanterna Verde ci avrebbe ucciso senza Flash! Flash è vivo? È ancora umano? Eh sì! Ha scaraventato Lanterna dal tetto a 100.000 all'ora! Vi voglio pronti a portarlo qui. Fate un giro di ricognizione. Vi tengo aggiornati. Vi trovate dietro le linee nemiche a Metropolis Occupata. Forse è il posto più pericoloso del mondo. Gli umani qui non sono i benvenuti. Proprio come Gotham! Questo Brainiac ha distribuito soldati corrotti su tutta la città. Truppe, blindati, droni, pattuglie. C'è anche una nave spaziale megagigante che non fa altro che sfornare mostri. Quella l'hai vista? Avete già rubato l'equipaggiamento di movimento. Vi servirà per restare al sicuro. Io ringrazio Warner Bros Games per aver sponsorizzato questo video. Grazie mille. Non vedo l'ora di continuare. Fatemi sapere la vostra. Le premesse sono veramente interessanti. Appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Social. Alla prossima ciao ragazzi. Ciao!